e ancora una volta ciao ragazzi benvenuti da un nuovo video di mark e che oggi noi giocheremo come voi vedete di là c'è già del buco e ci serve per fare dei godi e oggi proveremo a scappare dalla prigione ma non scappare proprio da corsa come ragazzi come voi sapete ma proveremo a scappare con questa mala e ecco qua ragazzi oggi abbiamo qualcosa di molto interessante oggi mettere questo qua speriamo che non si oh no lo sapevo ragazzi è malissimo perché l'acqua si è si è fatta e allora sarà pure un problema perché questo perché questo perché questo può i pulizioni può dare la colpa tutti quanti ragazzi significa che è male molto male molto malissimo malissimo non è bella questa cosa ragazzi come voi sapete perché le cose devono essere fatte capito ragazzi ok ragazzi oggi abbiamo avuto un nuovo lavoro cioè questo il cli lo udari e oggi ragazzi questo finisce il mio nuovo video di escape part 1 e oggi ragazzi ci abbiamo provato abbiamo già tutto quanto la pala e abbiamo pure le altre cose di qua ok ragazzi ciao ciao date 10 pollici in su per escape numero 2 ciao ciao ragazzi vi voglio tanto tanto per ciao 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 ciao